Con le qualità e le caratteristiche degli attaccanti che abbiamo, per forza di cosa dobbiamo lavorare a tre davanti, quindi il Presidente non è che vuole il 4-3-3, il Presidente vuole come me una squadra che vince, questo è la cosa che è importante, vuole un atteggiamento giusto dalla squadra, vuole il bello, vuole fare spettacolo, è la cosa che vogliamo tutti. Torazio penso giocherà sicuro, ieri l'ho provato, è andato anche molto bene, è un ragazzo che ha tante potenzialità, spero che riesca ad imporsi nella squadra e possa dare continuità anche alla partita che farà Rimi. L'importante è trovare quella cattiveria giusta, quella determinazione giusta e poi soprattutto gli atteggiamenti di squadra che a me interessano, che andiamo a migliorare perché bisogna far bene. Io sono uno che a me non piace cambiare, quest'anno purtroppo sto cambiando troppo perché vedi infortunati, vedi squalifiche, sono cose che poi vanno a condizionare una prestazione generale della squadra, però mi piacerebbe che chi va in campo dia il meglio di sé e chi lo toglie poi, questo è il discorso della gerarchia. Io voglio pure io sei punti nelle prossime due partite, penso che tutti quanti vogliamo questo, ma il Presidente ha fatto un intervento in settimana secondo me giusto perché bisogna richiamare alle attenzioni tutti quanti, l'allenatore, gli addetti ai lavori, i direttori, i giocatori, bisogna cercare di essere tutti uniti e compatti per cercare di ottenere risultati.